Mi chiamo Enrico e vi voglio raccontare due elementi che per me caratterizzano il Natale in Italia, in particolare in Sicilia, da dove vengo. Il primo è la tradizione dei presepi, in particolare il presepi vivente, una tradizione molto antica che si crede risalga a San Francesco d'Assisi, quindi al XIII secolo, e in Sicilia in particolare questa tradizione viene molto onorata, vengono ricreate le scene della natività con dei costumi bellissimi in delle location fantastiche, spesso naturali, ed è un piacere andare nei piccoli paesi e visitare questi posti. La seconda cosa sono, nei miei ricordi, una cosa che tengo cara, sono le giocate a carte fino a tardi la notte, circondate dalle vecchiette assetate di denaro, che pur di vincere un euro, due euro, sarebbero disposte a vendere i figli. Grazie.